Moda, design, lifestyle, gusto, turismo, in altre parole, tutto il lusso ed il meglio del Salento nelle pagine della nuova rivista bimestrale Denghien, I sensi del lusso, presentata presso lo spazio all'ombra del barocco di Liberrima in corte dei Cicala a Lecce. Una rivista patinata che ha un nome importante, Denghien, in onore della contesta leccese Regina di Napoli. Un nuovo progetto editoriale per esaltare il lusso del Salento. Sì, esatto. Denghien è una rivista patinata, ha un nome importante che riporta gli echi aristocratici di una donna comunque inconsueta ed elegante, Maria Denghien, con questi grandi slanci, con queste grandi idee. La rivista si troverà in edicola ad un costo di 5 euro, ma sarà diffuso anche nelle grandi catene alberghiere. La direzione è affidata a Leda Cesari e la redazione è composta da sole donne.